Parte il campionato per Scandone e Delfres. I ragazzi di Coccinino San Filippo nella Biregionale faranno i loro esordi a Brindisi, palla 2 alle 18.30. L'obiettivo della società presieduta da Marco Trasente è quello di riconquistare i tifosi in questo anno a zero, così definito dalla stessa. Intanto il club ha annunciato che i supporters accederanno al Del Mauro sabato 7 gradutamente contro Adria, così come per il resto della stagione. Chi vorrà potrà sottoscrivere le Fidelity Card, bronze 50 euro, silver 100 euro e gold 500. Queste le proposte per vedere la squadra di San Filippo. Nel contempo, questa sera alle 20.30, al Del Mauro, ci sarà l'esordio dei ragazzi di Andrea Crosarioli in binazionale, sulla strada di Burino e compagni Fiorenzuola, squadra tutt'altro che quotata, ma che di sicuro non parte sconfitta. Sulla panchina del roster piacentino ci sarà Lorenzo Dalmonte, figlio di Luca, indimenticato coach della Scandone.